con più forza i casi di violenza di genere, che a Benevento prende il via un progetto di formazione che coinvolge le istituzioni del territorio. Adriano Albano. Formazione specifica per migliorare l'assistenza alle vittime di violenza e di abusi. A Benevento magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, medici e assistenti sociali avranno a breve una preparazione mirata al confronto con il tema della violenza domestica, di genere e ai danni delle persone vulnerabili. Questo grazie a un ciclo di incontri che andrà avanti fino a giugno, obiettivo dell'iniziativa promossa da Procura, Prefettura e dagli altri enti del tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime e della violenza di genere, è quello di dotare gli operatori di strumenti capaci, ad esempio, di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria, quel fenomeno che porta la vittima a chiudersi, vergognarsi, fino a rinunciare alla denuncia o ancora peggio a colpevolizzarsi. Corsi che fanno parte di un ampio progetto. È un protocollo interistituzionale e nell'ampio di questo tavolo, che è seguito a protocollo, si era avvisata l'esigenza di una formazione più specifica, una formazione comune per dare una risposta e un approccio uniforme a questo triste fenomeno. Partner dell'iniziativa, la cooperativa EVA e la fondazione con il Sud. Un impegno corale che riguarda essenzialmente la formazione che noi rendiamo prioritaria, ma una formazione non soltanto del settore giudiziario, ma che riguarda anche gli aspetti sociali, sociologici, psicologici, di linguaggio, perché è importante il superamento degli stereotipi di genere. Grazie.